Come spesso accade, la magistratura fa un'azione di supplenza e ritengo che con questa supplenza forse oggi abbiamo tutti quanti la possibilità di bere l'acqua da pozzi di San Rocco. Se non ci fosse stato questo processo, probabilmente stavamo ancora con i pozzi di Sant'Angelo. Anche il processo Bussi-Bissi in primo grado si chiude con le assoluzioni e le prescrizioni degli imputati, così come era accaduto per il filone principale celebratosi in Corte d'Assise a Chieti, in particolare assolto con formula piena l'ex presidente dell'ACA Bruno Catena, mentre per gli altri quattro imputati, Giorgio D'Ambrosio, ex presidente dell'ATO, Bartolomeo Di Giovanni, ex direttore generale dell'ACA, Lorenzo Livello, ex direttore tecnico dell'ACA e Roberto Rongione, responsabile del servizio Sian dell'ASL di Pescara, il GUP del Tribunale Pescarese Maria Carla Sacco, ha disposto la derubricazione del reato di distribuzione di acqua avvelenata da doloso a colposo, con conseguente applicazione della prescrizione, così come chiesto dal pubblico ministero a Narita Mantini per tutti e cinque gli imputati. La sentenza riguarda il procedimento BIS sulla mega discarica di rifiuti tossici rinvenuta nel 2007 a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, quando la forestale pose i sigilli anche ai pozzi Sant'Angelo che captavano l'acqua potabile servita nelle case della Valpescara. Al momento della lettura del dispositivo della sentenza, oltre agli avvocati, era presente nell'aula 8 soltanto Bruno Catena, che al termine non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Io penso che alla fine questa è una decisione giusta, perché in realtà riteniamo che per molto e troppo tempo si sia gridato all'avvelenamento, allo scandalo. Noi siamo sempre stati zitti a tutte le cose peggiori e possibili. Tutti hanno detto che le acque erano potabili, l'ultimo interrogatorio, il controesame dell'Istituto Superiore della Sanità ha detto che l'acqua al rubinetto è sempre stata potabile. Questa è una minima di certezza. Ripeto, per me è fondamentale che rimanga questa attività di a che cosa è servito il processo. Senza questo processo non so se stiamo ancora a fare un balletto a Sant'Angelo oppure no. Oggi abbiamo la certezza, da tempo a dire il vero, dal 2007, che c'è stata un'azione sui pozzi di San Rocco che assicura a tutti dell'acqua bella e pulita, come meritiamo che sia, avendo delle falde del Gran Sasso. Con la prescrizione restano a bocca asciutta le parti civili che avevano chiesto complessivamente un risarcimento per danni di immagini alla salute e patrimoniali di oltre 23 milioni e 250 mila euro.